Siamo con Giancarlo Argento che sarà uno dei protagonisti della quarta edizione di Mangia e Passia. E allora Giancarlo, che cosa potremo degustare presso il tuo stand? Con quali delizie e quali sapori cercherai in qualche maniera di catturare l'attenzione di chi frequenterà Mangia e Passia? Sì, da noi troverete la pizza ripiena con la verdura, una pizza molto particolare che viene fatta in un modo molto antico, con ripiena di verdure, in poche parole noi metteremo le zarche, le patate, le cipolle, condita con un po' di olio di extravergine d'oliva sempre dalle nostre zone, negli oppolese, e daremo questa pizza per farvela assaporare. Come alternativa daremo pure le arangine, le arangine le faremo in tanti modi, ma quello particolare che noi vogliamo far assaggiare a voi è quello con il pistacchio. Il pistacchio ovviamente dalle nostre zone è raccolto proprio in questi territori, di raffadale soprattutto, perché come voi sapete il raffadale è molto famoso per il pistacchio. Quindi noi daremo questa degustazione per questa delizia di questo tipo di arangino fatto col pistacchio, la mozzarella e tant'altro. Quindi avremo tanto modo di poterli assaggiare. Ricampatevi a Ioppolo per Mangia e Passia, Picchi! Cuvene, Sarri Cria!